140 milioni di euro per i contributi a fondo perduto destinati al sostegno delle attività che hanno subito il più lungo periodo di chiusura forzata a causa del covid-19. Si tratta di discoteche, palestre, impianti sportivi, parchi a tema e parchi divertimento. I sostegni sono rivolti anche al settore dell'organizzazione di eventi e cerimonie, ai cinema, alle fiere e ai teatri. In base ai codici ATECO presenti nel decreto, anche gli impianti di risalita in montagna, le aziende di catering e le sale gioco potranno richiedere un aiuto economico. Ogni attività potrà richiedere un importo massimo di 12.000 euro, fatta eccezione per discoteche e sale da ballo, i cui ristori possono arrivare a 25.000 euro. A firmare il decreto interministeriale è stato il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il documento verrà poi passato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Maxifrode scoperta dalla Guardia di Finanza di Genova. L'operazione Valalla ha portato a tre misure di custodia cautelare, oltre a sequestri di denaro e immobili. Arrestato Giorgio Parodi, presidente della squadra di pallavolo femminile Olimpia Voltri, mentre i due suoi collaboratori sono i domiciliari. 6,9 milioni di euro di finanziamenti illegali è un'operazione che complessivamente ha indagato 41 persone. I fermati acquisivano in maniera fraudolenta finanziamenti bancari, nella maggior parte dei casi garantiti dallo Stato, a favore di società fantasma che venivano successivamente indirizzate verso il fallimento. La Polizia Postale sta monitorando alcuni canali Telegram legati agli ambienti Novax, al fine di vigilare sulla diffusione illegale dei recapiti telefonici e degli indirizzi privati di giornalisti, politici e medici. Gli iscritti a questi canali potrebbero infatti essere tra i responsabili delle aggressioni, delle violenze verbali e delle minacce di morte ricevute da figure pubbliche, tra cui il ministro degli esteri Luigi Di Maio, l'infettivologo Matteo Bassetti, il virologo Fabrizio Pregliasco e da diversi giornalisti di varie testate. Nella chat Basta Dittatura creata su Telegram, che conta oltre 40.000 iscritti, alcune persone si vantano di aver minacciato telefonicamente coloro che ritengono i responsabili della dittatura sanitaria, provvedendo poi a inviare anche numeri di telefono e indirizzi dei colpevoli. Il compito della Polizia Postale sarà quello di contrastare la diffusione di tali informazioni personali, sia per il rispetto della privacy, sia per la tutela della sicurezza delle persone finite nel mirino dei Novax. Scende il tasso di disoccupazione nel mese di luglio e arriva al 9,3%, 0,1 punti percentuali meno rispetto a giugno. I giovani disoccupati sono invece il 27,7%, con una diminuzione rispetto al mese precedente di 1,6 punti percentuali. Lo comunica l'Istat diffondendo i dati mensili provvisori su occupati e disoccupati. Il tasso di occupazione resta stabile al 58,4%, ma gli occupati calano di 23.000 unità rispetto a giugno. Sullo stesso mese del 2020, invece, il numero degli occupati cresce del 2%, con 440.000 lavoratori in più. Il tasso di inattività sale al 35,5%. Confrontando il trimestre maggio-luglio 2021 con il precedente, il livello dell'occupazione sale dell'1,4%, con un aumento di 317.000 unità.